Ottima iniziativa in collaborazione con Agno Campo Ambiente è la produzione del compost totalmente ecologico. Vengono raccolte tutte le ramaglie e tutta l'erba dei comuni adiacenti e viene stoccata in un apposito sito di Agno Campo Ambiente dove viene fatta macerare e viene prodotto in maniera totalmente naturale senza nessun prodotto chimico un compost che quindi è naturale al 100%. Questo compost lo mettiamo a disposizione dei cittadini presso l'ecocentro della zona industriale. Ecco Sindaco, un'iniziativa molto originale e anche innovativa. Sì, ancora una volta Arzegnano vuole essere green, Arzegnano pensa all'ambiente grazie appunto a questa iniziativa di Agno Campo Ambiente e a questo servizio che viene fornito tramite l'ecocentro di Arzegnano e la cooperativa insieme che lo gestisce. Quindi invitiamo i cittadini a ritirare questo compost, è possibile ritirare un secchio di compost che può servire appunto per i nostri giardini, per il nostro verde a casa.